I primi tempi nel sogno sì, e qualche rara volta ancora io sono inseguito, ma non dai russi, ma dai tedeschi, e scappo. L'ordine di Hitler di non abbandonare il don l'avevamo eseguito fino in fondo. Ore una, potgornoie, freddo intensissimo, io faccio la marcia in sci, primi gravi congelati. Della fine del mondo, noi non usciamo vivi da questo inferno. Italiani, tedeschi, ungheresi, rumeni, caos. Io ricordo di non aver mai sentito nessuno gridare Viva l'Italia, chi moriva chiamava la mamma. Che giorno è oggi? E dove siamo? Non esistono né date né nomi, solo noi che si cammina. Carlo era dispiaciuto che tu avessi determinate idee, che non riuscissi a capire lui, perché realmente tu non lo capivi e lui non capiva te. Mio padre era con la guerra nel cervello. Vivere certe esperienze a vent'anni entrano nel profondo dell'animo, nel cervello, uno poi le ricorda. Mio padre era con la guerra nel cervello.